Oggi i nostri amici della Epic Games si sono svegliati con la voglia di Oktoberfest e quindi hanno messo dei personaggi un po' bizzarri tipo Heidi, suo nonno, le caprette che ti fanno ciao, i monti voi ragazzi lasciate un mi piace arriviamo a 40.000, iscrivetevi, campanellina e buona visione Oggi ragazzi abbiamo un po' deque è un po' deque d'Octoberfest, è un po' deque con Heidi, è un po' deque con Ludwig tutto insieme e quindi bello ragazzi, questo è ben tornati in questo nuovissimo video nazionale di Fortnite faglielo vedere Heidi, chi è che comanda, altro che caprette i draghetti ti fanno ciao, ho cambiato idea mettiamo il draghetto quello verde che è più figo one shot, one kill, one win quindi portiamoci a casa sta partita per piacere non ho ancora vinta una nella sesta, una sola dov'è che vogliamo prenderci le briscole in faccia? a palmetto paradisiaco, ci sto dai draghetto, fagli vedere chi comanda certo eh, questa gonnellina mi lascia intravedere forse fin troppo adesso anche la scia d'atterraggio con i cuoricini perché ammazzeremo i nostri avversari con tanto tanto amore ma te il draghetto quanto imbruttisce, bellissimo la 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 ci abbiamo le baguette, il formaggio, le salsicce la la lero, la 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 se vi bacio anche un po' di formaggino e lo mangiate un po' ok sto impazzendo raga, è ufficiale va bene, via, un vampino abbiamo trovato proviamo a trisciottare quello lì uh abbiamo qualcuno già sotto di noi? sei messo male amico eh addio eliminato, mi dispiace così tanto che non puoi capire guarda e prima ce lo siamo portati a casa ma era disarmato quindi conta poco eh, come i due di picche facchiamo il cesso per sicurezza recuperiamo anche il caccia blu mi servirebbe dello scudo e sono già a posto eh no, lo scudo me lo sogno il cannemozze a me non mi fa impazzire però ce l'ho dato questo e devo fare sento dei passi qua vicino e cavolo quanta vita c'ha, è bello mio, devi stare calmo eh c'ha praticamente laserato ma fortunatamente aveva un medikit per noi abbiamo rischiato di morire subito malissimo il mio poverino si starà mangiando le mani e sono rimasto con 14 di vita e c'ha anche ragione tra l'altro sta arrivando qualcuno, aiuto eh no, eh no, 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 no eh ma va a cacare dai ma che c***o devo fare cioè non c'è un secondo di tregua ti curi ne arriva un altro cioè un attimo di pazienza la determinazione è la virtù dei forti dai c***o palmeto pariasidisi suaiaco non ci ha dato giustizia quindi dobbiamo trovare una strada alternativa verso la felicità io sono abbastanza di uro e sull'isoletta lassù in mezzo al cielo un po' di felicità ma di guerriglia urbana la troveremo speriamo di aver preso bene le misure perché se atterriamo fuori dalla casa è un bel casino se volete in i barilotto di sopra c'è anche un po' di birra ci fermiamo e si beve un po' in perché vanno tutti più veloci di me? però siete tutti più in basso buffoni io atterro diretto sulla casa beccatevi un po' il mio atterraggio perfetto mentre lui se ne va sopra io passo da qua va dietro così è il mio posticino preferito in assoluto prendi e porta a casa questo non è il top proprio per niente un'arma qui sotto grazie, 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 grazie è ancora sopra il tetto il nostro amico dobbiamo andare a prenderlo ma sì, a che c'è costa niente aiuto granate a profusione non mi piace per niente sta cosa via scendiamo e leviamoci dai tre pa- da dove? ma io dico ma santa miseria ladra da dove è arrivato se io ero sopra il tetto? aaaaa casa dolce casa so io dove andare a trovare un po' di conforto borgo bislacco lo dico sempre poi va sempre a finire male ma per quale motivo? non lo so è che ormai atterra così tanta gente dappertutto non c'è un attimo di tregua e poi ora lui si ferma lì bene me ne vado a casa qua giù in fondo perfetto godo qua mi sento a mio agio hanno preso la cassa sopra quindi facciamo subito attenzione cassa qua nel CS dobbiamo scendere nel bunker il prima possibile mettiamo una piccola barriera nel mezzo qua che non si sa mai che tanto ora scenderanno a prendermi mi danno neanche il tempo di spararmi lo scudo probabilmente io non ho parole non muoiono le persone una roba allucinante va bene che l'ho mancato con la metà dei colpi però caspita saltellano come dei conigli ora concentriamoci perché con 70 dita si fa poco è buono lì calamity jane eh no ragazzi cioè non c'è veramente più niente da fare sono tutti dei matti psicopatici ho perso la speranza ho iniziato tutto fogato come al solito dicendo quest'oggi è il giorno diciamo i signori bla 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 tutte parole al vento buttate nel cassa sto zitto sto solo gufando da solo a me stesso quindi sto zitto come la va la va felici o tristi dobbiamo portarcela a casa il risultato è quello lì c'è poco da fare vediamo cosa riusciamo a inventarci atterrando sempre il nostro tettino qua di lato vai step tutto nelle tue mani come sempre d'altronde ok questo è molto buono questo pure ci piace c'è uno qua dietro come fa a prendermi no ragazzi seriamente non poteva colpirmi ero dietro al muro cazpita è normale che poi uno si arrabbia perché accadono le situazioni ingestibili al meto paradisiaco ma sì perché no ormai è andato tutto ai maiali completamente che vi devo dire io io mi impegno mi do da fare ma qui se non stai tutto il giorno a giocare non porti a casa nulla qualcuno è atterrato qua l'ho bello e sentito io eh calamity jane stai calma c'ho 4 r in questo momento cosa devo fare non ho molte alternative manca un fucile a pompa per difendersi da vicino sto cercando di tenermi alla larga dalla guerriglia e mi stanno sparando allontano col cecchino un altro slurp questo non è male ma ho trovato un altro r eh no vedi vedi cosa succede vaffangala va siamo anche in zona sicura quindi ben venga così io gioco con calma ragazzi ovviamente fuori ok questo è quello col cecchino che rompeva i coglioni prima vediamo se ha ancora qualcosa da ridire adesso abbiamo 3 kill siamo abbastanza tranquilli non c'ha neanche sfiorati ho bisogno di scudo grazie preferisco portarmi il medic piuttosto c'è qualcuno eh raga attenti quanto godo eh quanto godo stronzetto gli spacco il culo godo un sacco si che soddisfazione cecchinato po' unato completamente ora vado a prendere anche lo scudo a 25 sperando ci sia ancora tanto siamo in zona sicura ma anche piazzava trappola addosso vigliacco aveva 2 medic quindi adesso ne abbiamo 3 è troppo fondamentale avere delle armi diverse quando affrontare gli avversari qualcosa per distruggere le strutture qualcosa per prendere da lontano mi raccomando cercare sempre un po' di tutto io in realtà sono in safe quindi prima di lutare per bene tutta quanta la città non vado via non siamo più in safe ma chi se ne frega bello questo è molto interessante ma lo lasciamo lì cosa non avete capito di voglio scudini ma nemmeno gli scudini mi basta velo da 70 da 50 scudini e vabbè prenderemo questo provato anche lo shotgun che mi piace tanto vabbè rinunceremo al cecchino guardate qua che caspita c'era una fottutissima trappola lì dietro stavo per prenderla nei denti è giunta l'ora di andarsene dobbiamo prendere il rift di prima e scappare via let's go baby corso commercio mi sembrerebbe la scelta migliore questa strada ormai l'abbiamo fatta così tante volte ma tua sorella ma io dico ma fatti cavoli tua che tanto non mi vieni più a prendere io guarda non so che dire giuro mi stavo ancora sparando ma basta ho visto uno slurp da 75 incredibile the dream is real vai il draghetto quanto è focato quanto è focato il draghettino oh fattena a cagare va no non è normale ragazzi una cosa del genere no 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 ragazzi ma stiamo scherzando cioè che c***o dovevo vivere io nell'ansia che un secondo dopo aver infatto uno scontro ci sia subito un altro c'erano tutte le cure per tornare a 100 al massimo ma non c'è stata tregua un secondo io spacco tutto spacco tutto ve lo giuro è l'ultima partita ma giuro che non è la penultima stavolta è l'ultima cioè stai tutto il tempo a lutare a prendere le cose a mazzi uno c'hai tutte le cose per tornare al massimo e ne arriva già un altro e un altro e un altro erano 14 in vita la safe era gigantesca potevano essere ovunque ma erano tutti quanti da me dai andiamo a corso commercio che hanno messo anche la casettina nuova no lì c'è già qualcuno che ti pareva qualcuno è già entrato pure dentro dammi la cassa se no è un casino nulla nulla non mi merito una ceppa di nulla via proviamoci un fucile a pompa forse è meglio di niente c'è qualcuno laggiù in fondo dai proviamo a ucciderlo addio vedi vedi cosa intendo raga vedete vedete cosa intendo pure no dai away away apri sta wow wow aiuto basta non ce la faccio più questo gioco mi sta portando all'esasperazione mi prego una cura un jug jug grazie oh mio dio ho fatto il culo a tutti però questa casetta è nuova spacchiamola per bene no no mi trova qui non c'è verso si si dobbiamo andarcene arriva la safe via di qua subito mamma mia ve lo giuro un'ansia incredibile io non gioco più sereno come una volta gioio il batticuore ormai ma cazzo ho fatto delle plays adesso fuori di testa e che cavolo 199 basta ne avanzano dai di niente ha paura di lei non apparei niente quelle 1 quelle 1 spero non abbia visto me spara spara che ti arrivo da dietro dove diavolo è andato eccolo lì vai e no e no ma cosa vi ho detto prima cosa vi ho detto prima cosa vi ho detto prima muoio muoio sicuro finita the end raga the end spero si spari una vice non ce la fo non ce la fo non ce la posso fare